Acqua e manutenzione delle strade sono questi gli argomenti che sono finiti in due distinti interventi dei consiglieri provinciali. Sulla dotazione idrica alle famiglie indigenti sono intervenuti i consiglieri provinciali di voce siciliana Orazio Guarraci e Leo Vinci che hanno presentato una mozione. Le difficoltà economiche di molte famiglie indigenti, impossibilitate a pagare anche il misero costo dell'acqua, ha determinato da parte del gestore privato dovendo rispettare il regolamento d'utenza, dicono Vinci e Guarraci, una conseguente azione finalizzata al distacco della presa idrica degli utenti morosi compromettendo la garanzia di una vita dignitosa e civile di molte famiglie, mortificando il valore della solidarietà e della sussidiarietà. In una interrogazione inoltre Nino Spoto consigliere provinciale di sinistra ha chiesto all'assessore alla viabilità Toto Scozzeri e all'ufficio tecnico della provincia di intervenire immediatamente per risolvere le difficoltà dovute a nuovi smottamenti sulla strada raffadale siculiana. Spoto sottolinea l'esigenza di lavorare urgentemente con priorità sull'arteria in questione con interventi mirati allo sgombero dei pericoli e al rifacimento del manto stradale. Ricordo, dice Spoto, che anche altre strade provinciali sono chiuse e che quindi è indispensabile intervenire per tutelare tanti lavoratori, impiegati, insegnanti e studenti che ogni mattina si mettono in viaggio per raggiungere il posto di lavoro. Per Spoto è indispensabile che la politica intraprenda azioni che diano la giusta importanza alle infrastrutture.